Vedi professore, il mio problema è che non mi sento accettato dalla nonna. E' certo che la nonna non l'accetta. Se lei le ruba i vestiti, fuma vicino alla nipotina, ma perché non smette? Non ha paura di perdere il pelo? Col vizio del fumo si perde la salute. E' la prima causa dei tumori. Adesso che non fuma più, come va? Una fuga! Ha visto che bel pelo lucido? Sente quando parlo? Sente quando parlo? Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie! Grazie a tutti